fammi condividere o madre corredentrice i tuoi dolori di sua rostia del cuore immacolato il grande teologo dominicano padre reginald garigul grange spiega che per penetrare il mistero del cristo quello della sua passione l'anima contemplativa deve chiedere a maria di introdurvela più profondamente è quanto ci dimostra tra le altre preghiere lo sta abat mater questa sequenza a forme precise ardenti splendide per esprimere la ferita del cuore del salvatore e mostrarci l'influenza così intima e penetrante di maria per condurci a lui e non solamente la santissima vergine ci conduce a questa divina intimità ma in un certo senso la fatta in noi come ci dice nelle strofe la mirabile ripetizione del fac espressione della preghiera ardente nessun santo è stato in grado di partecipare in pienezza tanto dolore e tanto amore come la madonna che quale creatura immacolata e madre di dio ha potuto partecipare attivamente alla redenzione in grado unico e irripetibile ma questo amore dolore lei stessa concede che venga sperimentato dai più intimi dalle anime a lei più fedeli è questo il senso profondo di tutto lo stabat mater composto dal beato jacopone da todi pertanto per entrare nel mistero del triduo santo ebbene rivolgersi alla corredentrice del genere umano e tenersi vicino a lei farle compagnia con quel fammi condividere che solo le anime più coraggiose sono in grado di pronunciare con ardore meditando lo stabat mater l'anima non può non soffermarsi al momento solenne in cui la madre ricevette tra le braccia il figlio deposto dalla croce la pietà di michelangelo ha impresso nel marmo dei tratti di vera regalità in colei che tiene sulle ginocchia il corpo del divin redentore però per quanto l'arte sacra sia arrivata ad elevarci aiutarci a penetrare il mistero non ha saputo né può cogliere lo strazio fisico di quel corpo divino martoriato e deformato da innumerevoli piaghe quando la madonna ricevette tra le braccia quel corpo dilaniato dei nostri peccati sperimentò appieno tutto lo strazio di gesù che forse dall'altezza della croce ella non aveva potuto cogliere in pienezza lo sguardo e ancor più il tatto dovettero far penetrare più a fondo quelle sette spade che erano confitte nel suo cuore immacolato le piaghe che contemplava nel corpo divino del figlio erano le stesse piaghe che solcavano il suo cuore addolorato di madre corredentrice tra le tante anime mistiche che hanno avuto la grazia di rivivere questo mistero vogliamo ricordare santa camilla battista da varano e in particolare una sua estasi dolorosa che non è molto conosciuta eppure i particolari in essa riportati rivelano una sua singolare partecipazione ai dolori della madre corredentrice a colei che stava ai piedi della croce eccone la sintesi riportata dalla santa l'anima mia fu rapita in quel mistero quando la flitta madre teneva il morto figliolo nelle materne sconsolate braccia sentivo ed ero presente alle alte voci rauche e piangenti di quella dolorata madre sentivo l'innamorata discepola maddalena gridare con voce accorata maestro mio sentivo il diletto discepolo giovanni piangere amaramente gemendo sommessamente dire padre fratello maestro mio e inoltre i lamenti delle altre pie marie quando si rafforzavano i pianti della gloriosa vergine io non sentivo più niente di questo mondo e allora mi pareva che l'anima mia stesse appena appena nel corpo e i miei occhi ogni tanto gettavano qualche lacrima quando sentivo le cose che si dicevano e facevano attorno a me nella sua esposizione santa camilla specificherà come prima di questa esperienza mistica non aveva una particolare devozione per questo mistero e che era abituata piuttosto a trattenersi spiritualmente nel gezzemani a fare compagnia a gesù abbandonato e agonizzante dopo questo dono di partecipazione invece lei stessa riconoscerà come dall'ora in poi sempre sono stata devota di tale mistero dalla deposizione di gesù dalla croce il fatto mi lasciò questo vero segno che per oltre due anni non potevo reggere nel guardare il crocifisso e non potevo vedere scale martelli chiodi né tenaglie o voi tutti che passate per la via del divino amore guardate e vedete se c'è dolore simile al mio dolore la madre corredentrice ci mostra il suo figlio morente con tutte le sue piaghe aperte per la nostra salvezza così abbiamo ridotto il suo figlio con i nostri peccati personali e le nostre ingratitudini il mostrarci il figlio di laniato del nostro peccato però ella offre per tutti noi l'atto più alto di solenne riparazione e adorazione al corpo divino di gesù pensiamo spesso e non solo il venerdì santo a questa sua intercessione per noi l'amore e il dolore più grande di una madre immacolata e divina si compie con quelle lacrime cocenti che come ci fa capire santa camilla sono state il primo vero lavacro del corpo divino le sue lacrime corredentive scorrevano su quelle piaghe aperte dai nostri peccati accogliamo la madre che ci mostra tra le braccia il figlio morto e dilaniato dal nostro peccato approfittiamo per domandarle la perfetta contrizione delle nostre colpe in virtù delle sue copiose e immacolate lacrime materne e con san pio da pietrelcina preghiamo così rappresenta la tua immaginazione gesù crocefisso tra le tue braccia e sul tuo petto e di cento volte baciando il suo costato quest'è la mia esperienza la viva sorgente della mia felicità quest'è il cuore dell'anima mia mai nulla mi separerà dal suo amore io lo posseggo e non lo lascerò finché non mi mette nel luogo di sicurezza digli spesso che cosa posso io avere sulla terra o che posso pretendere nel cielo se non voi o mio gesù voi siete il dio del mio cuore e l'eredità che io desidero eternamente grazie 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 grazie